Carolina Orlandi, la figlia del primo matrimonio di Antonella Tognazzi, viveva con sua madre e David e dichiarerà che il 5 marzo era a cena con David che aveva notato dei tagli sulle sue braccia. Immediatamente farà presente questa cosa alla madre, la quale le risponderà che certe volte per tornare alla realtà bisogna sentire dolore. Carolina, quella sera, venne chiamata da David con la scusa di volerle fare un disegno. David prese un blocco di carta, ma invece di produrre un disegno, scrisse sul foglio bianco le seguenti parole. Non parlare di questa cosa né fuori né a casa. Carolina rimase estranita, non capiva di cosa, non poteva parlare, quindi chiese Ci sono cimici in casa? David annuì e se ne andò.